Giulio Migliaccio, emozioni, sensazioni? Emozioni tantissime, tantissime perché mi accingo a chiudere una carriera bella, bella dove sono contento di tutto quello che ho fatto, tanti anni passati comunque inseriamo a tanti anni comunque con questa maglia, quindi la soddisfazione è doppia ma con nessun rimorso, non posso rimproverarmi nulla, sono contento di quello che ho fatto e adesso finiamo le ultime due partite nel miglior modo possibile, lascio una grandissima Atalanta in Europa che era quello che comunque sognavo e mi accingo a studiare e a prepararmi per un qualcosa di nuovo. L'abbraccio sarà in occasione della partita contro il Chievo, però già qui all'Atalanta Store i tifosi sono venuti per salutarti, abbracciarti, ringraziarti per quello che hai fatto per l'Atalanta. La stima e l'affetto degli atalantini, dei bergamaschi non è mai mancato, io anche quando sono tornato d'avversario non sono mai stato un avversario per loro. Ripeto, sarà sicuramente una giornata emozionante il 28 per me perché saluto il calcio con questa maglia, saluto la Serie A che l'ho conosciuta con questa maglia, quindi ho iniziato e concludo con questa maglia, per me è il massimo. Ripeto, mi godo gli ultimi 15 giorni, poi vediamo, ringrazio tutta la gente che stasera è venuta qui per l'ennesima dimostrazione d'affetto. Giulio, lasci l'Atalanta in Europa? È un sogno che si realizza, è un sogno che si realizza perché io l'Europa l'ho fatta già con il Palermo e l'ho raggiunta anche con la Fiorentina, però farla con questa maglia è qualcosa di diverso, di speciale, perché so la passione e l'amore che ci mettono i tifosi, che sognavano comunque questa qualificazione, questo evento da 26 anni e contento anche per la proprietà perché comunque anche loro sono una proprietà ambiziosa che vuole crescere i tifosi e se lo meritano anche loro, ecco anche la società perché si sono veramente mossi bene questi anni. Giulio, comunque il tuo futuro è nera azzurro? Sì, perché ecco, questo ha reso meno doloroso, e vogliamo così dire l'addio al calcio, perché nel momento in cui il Presidente mi ha detto dove vai, tu sei uno d'Atalanta, per me quella frase lì difficilmente me la dimenticherò, forse in un'intervista l'ho paragonata che forse è stata una soddisfazione più bella delle 300 partite in serie che ho fatto e di tanti anni di carriera perché ecco hanno capito che oltre al calciatore hanno potuto apprezzare anche la persona che quella roba lì è impagabile, quindi è una soddisfazione doppia, ecco, aver raggiunto l'obiettivo di fare un calciatore ad alti livelli per tanti anni in più, ecco, essere così gratificato dalla proprietà. Giulio, ci sono queste ultime due fatiche, fatiche importanti, si va per gradi, la prossima. Empoli, l'Empoli si gioca la salvezza, ma anche l'Atalanta si gioca qualcosa di importante. Assolutamente, stiamo preparando questa partita nel miglior modo come abbiamo fatto tutte le altre 36, quindi a noi servono dei punti perché vogliamo la matematica, ma anche comunque per una questione di prestigio, per la nostra classifica, vogliamo rendere ancora più bella la nostra classifica, ma in primis perché abbiamo un obiettivo ancora da raggiungere, quindi Empoli e poi dopo penseremo all'ultima qualche euro. Sarà una partita tosta, proprio per i motivi che tu hai detto. Sì, sì, una partita tosta perché loro si stanno giocando la salvezza, ma ripeto, di fronte ci saranno due squadre che hanno bisogno di punti chi per un motivo e chi per un altro e speriamo che prevalga l'Atalanta. Grazie.